ciao a tutti datoni soft out of beat allora andiamo a vedere abbastanza velocemente ma comunque nel dettaglio il software del oneplus 3t io lo chiamo oneplus 3t che qualcuno mi ha ripreso tipo gioco al poker che si chiama oneplus in realtà per me rimarrà e rimarrà sempre oneplus 3t ok andiamo a vedere nel dettaglio questa è la home questa è shield se non sbaglio andiamo a vedere come si chiama nel frattempo vediamo la possibilità di personalizzare o meno la home piuttosto che il blocco schermo con gli sfondi i widget che vabbè conosciamo la personalizzazione shelf attivare o meno scelta la ricerca rapida con uno swipe verso l'alto far scendere il pannello delle notifiche rapide con uno swipe verso il basso qui possiamo personalizzare le icone modificarle come come vogliamo e la grandezza standard grandi o piccoli in realtà molto scarna la possibilità di personalizzare di personalizzare la home dicevo queste shelf con il meteo adesso vedete c'è la possibilità di giocarci un attimino con con il meteo molto carino la possibilità di mettere dei metro dei memo contatti recenti le app recenti è un po un controllo di gestione un centro di gestione dove vengono visualizzati un po alcuni dati oltre la possibilità di aggiungere o meno dei widget che possiamo andare a scegliere come meglio crediamo ok questa è la home vediamo il pannello delle notifiche qui è possibile tenendo premuto ad andare velocemente nel collegamento indicato qui è possibile modificarlo aggiungendo meno dei dati diciamo che mi sarei aspettato una maggiore una maggiore personalizzazione di questi di questi dati di questi toggle lo scusatemi perché comunque sono questi e non non sono diciamo tantissimi avrei preferito avere qualcosina in più comunque questo da qui si accede rapidamente alla alle impostazioni che adesso andiamo a vedere allora che cosa posso farvi vedere prima di andare nelle impostazioni dopo vediamo la fotocamera nel frattempo adesso ci spulciamo un attimino quella che il menu io ho già cambiato il un po il layout quindi ho messo colore nero e lo sfondo nero scusatemi è il colore arancio sul wifi nulla da da far vedere in particolare bluetooth quindi questa è tutta la parte delle connessioni questo un dual sim io ho preso la versione asiatica senza banda venti e devo dire che con la vodafone non ho particolari problemi devo testarla con la wind perché pare sia non pare è quella che soffre maggiormente la mancanza della banda venti in quanto è l'unica ad usarla ma vi farò sapere più avanti utilizzo dati ripeto nulla di di particolare qui è tutto diciamo android stock la cosa che mi è piaciuta di del del menu e che avrei preferito fosse stato fosse stato un impostazione di base questa questa modalità di visualizzazione diciamo che mi piace molto di più rispetto a quella quella standard questo fu introdotto su android stock la cino game mood di non so quale di quale miliardo di anno di anni fa però comunque diciamo che è una cosa vecchiotta qui la possibilità di personalizzare il cursore che abbiamo sulla sinistra e quindi di personalizzare le varie modalità quindi se andiamo sul silenzioso possiamo modificare il relativo profilo e qui in realtà questa è l'unica personalizzazione l'unico settore dove è possibile personalizzare la rom di oneplus qui la possibilità di retroilluminare o meno i tasti capacitivi scambi i tasti quello indietro e recenti barra di navigazione sullo schermo avete vista è comparsa ovviamente non non è la cosa migliore avere lo schermo perché si ruba spazio al display premi due volte il tasto di accensione per fotocamera poi qui si vanno a personalizzare i tre tasti quindi il tasto home cosa fare ad una pressione o lungata o sul doppio tocco idem compatate con il tasto recenti e il tasto indietro quindi diciamo che questa è la personalizzazione dei tasti i gesti e quindi gesti di spegnimento dello schermo aprire la fotocamera disattivare la torcia il controllo della musica capovolgi per disattivare l'audio screenshot con tre dita molto basico barra di stato qui un attimino che cosa visualizzare nella barra di stato la batteria e sminchiate varie diciamo che come posso dire anche in questo caso un po' deluso dalla poca personalizzazione di questo sistema però è una considerazione personale andiamo a vedere il display luminosità adattiva la sospensione anche la modalità notturna come avete visto è cambiata la calibrazione dello schermo la possiamo andare a diciamo modificare come meglio crediamo e quindi diciamo qui ci sono le varie situazioni che possiamo andare a vedere e a modificare di base se volete colori un po' più saturi meno saturi grassi saturi insaturi il tema del sistema quindi chiaro adesso riavvierà preferisco scuro e il colore dell'evidenziatore quindi ad esempio si può impostare il blu se ci piace di più dimensione del carattere diciamo che queste sono tutte cose abbastanza basiche rotazione automatica lo schermo ambient quindi l'ambiente display alla ricezione alcune notifiche si accenderà lo schermo sensore di prossimità quindi avvicinando la mano vicino al sensore di prossimità si accenderà lo schermo luce intermittente queste led di modi di notifica siamo arrivati al display audio devo dire che l'audio di questo oneplus 3t è veramente buono un po basso l'audio in capsula devo dire rispetto a ad altri telefoni che ho avuto però la diciamo il viva voce è bello forte diciamo mi ha soddisfatto abbastanza questo è il comparto audio dove è possibile personalizzarlo le notifiche un classicone qui andate a vedervi tutte le cosine che potete fare la batteria la batteria di questo telefono o meglio la durata e l'autonomia di questo telefono è veramente eccezionale c'è riesco a fare tranquillamente quattro ore e mezza cinque ore di schermo quindi tranquillamente arrivo a fine serata ma proprio con tutta tranquillità con due o tre ore di chiamate al giorno e devo dire che per il mio uso è veramente un eccellente l'autonomia la reputo veramente eccellente poi 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 siamo arrivati a batteria archiviazione a memoria questa è la versione da 64 giga e 6 giga di ram processore snapdragon 821 fotocamera da 16 megapixel posteriore da 16 megapixel all'anteriore ma dopo la andiamo a vedere qui per quanto riguarda le personali non andrei a vedere niente tranne il sensore di impronte che è veramente velocissimo cioè si sblocca veramente in un nanosecondo vedete c'è adesso lo sto facendo in continuazione ed è veramente di una velocità ma già su one plus 2 che avevo avevo notato che era una spanna avanti rispetto al al top di gamma di quel periodo che il note 4 che soffriva un attimino a livello di velocità di sblocco con le impronte digitali qui su sicurezza non ho altro da dire quindi andiamo un po avanti anche in questo caso non segnalo nulla di particolare cioè la personalizzazione e quella base posso aggiungere che nella lingua ed immissione di base all'inizio quando si quando si imposta il telefono si può scegliere la swift che come come tastiera opzioni sviluppatore qui insomma sappiamo tutti come si ottiene questa questa cosina ovviamente è aggiornato all'ultima versione di l'ultima versione di della dell'oxygen os disponibile che su android 7.0 ancora dirà qualcuno ben presto testerò la idrogen os che è una versione asiatica del sistema operativo di one plus perché mi piace molto di più cioè ai tempi del one plus 2 devo dire che era quella che mi soddisfava in modo in modo maggiore a livello di personalizzazione e di grafica e layout del telefono il telefono è velocissimo quindi non c'è proprio nulla da eccepire è veramente veramente scattoso andiamo a vedere un attimino la fotocamera e vado un attimino ribaltare il tutto vediamo il mio cinauzzerino considerate che adesso c'è una condizione di scarsa di poca luminosità quindi diciamo che si soffre un attimino però la fotocamera non è tra sicuramente a livello dei top di gamma però diciamo che non ci si può lamentare adesso è un po sfocata però diciamo che si poteva lavorare di più però non è di sicuro un camera phone qui sono è la possibilità di personalizzarlo le varie impostazioni che ci sono quindi possiamo il timelapse slow motion foto video registrazione in 4k devo dire che il video la qualità dei video veramente elevata e poi c'è la possibilità di sparare panorama cosa vi faccio vedere nelle impostazioni è possibile salvare le immagini in formato row e manualmente andare impostare un po tutti i cazzi e i mazzi questa è la tipo di fotocamera e la griglietta c'è anche a livello anteriore la fotocamera anteriore da 16 megapixel però devo dire che non è che ho notato particolari miglioramenti anzi comunque fa un po dovrebbe essere da 16 megapixel però fa un po cagare come tutte le quasi tutte le fotocamere si qui stavo facendo colazione finito di fare colazione detto questo ragazzi ritorniamo un attimino sulla schermata principale e niente devo dire che i 6 giga di ram fanno in modo che il telefono sia sostanzialmente sempre sempre fluidissimo cioè è impeccabile da questo punto di vista il software devo dire che sono un po stufo di android stock preferisco la personalizzazione anche perché detto tra noi mettere 6 giga di ram modificare il file system perché su questo device oneplus ha modificato il file system ed è velocissimo cioè il sistema veramente velocissimo quindi qualche personalizzazione in più qualche zozzeria in più mi sarebbe sicuramente piaciuta la l'avrebbe gradita questo è l'app drawer dove si può fare la ricerca una così tanto per invogliarvi a provare qualcosina diverso e ben presto fare il root di questo bel terminale i contatti vabbè ragazzi è android stock qui anche il dialer android stock non ci sono particolari applicazioni che posso farvi vedere perché ripeto è abbastanza stock a vi faccio vedere il cosino della musica però diciamo che non ho nessun audio per il resto tutto regolare io vi saluto è stato un piacere iscrivetevi al canale fate i bravi e don't try this at home ciao ragazzi